Ciao. Bidja, за ворот отдай мяч, Bidja, туда мяч, дай вратарю. Дай вратарю, 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 дай вратарю. 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 Grazie a tutti 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 Se capire non riesco a tutti i milioni della rufficazione, sei che ci chiedono. Direi che chiedono a fare un po' dica. Ma ci chiedono in questo tempo, ma non s'inchiazzi proprio un po' dica, ma c'è qualcosa di più di cautela, ma chi accoglioni c'è un po' lui? Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.